di mtt.tv, oggi ci troviamo in un ambiente molto internazionale, una mostra di pittura di Pedro, quella con la camicia a quadri, russo, un ambiente molto internazionale, molta cultura, guardate, quadri molto attoruali, molto petrolio, molto russo, guardate al finale che splendida vista fino al San Eugenio Alto, ambiente veramente molto molto internazionale, in linea con la Tenerife di oggi. Alla prossima!